È tempo di influenza, è ora del vaccino. Dal 25 ottobre in Emilia-Romagna parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Il vaccino riduce il rischio di complicanze gravi che possono comportare ricoveri e semplifica la gestione della diagnosi rispetto al Covid. La vaccinazione è necessaria e gratuita per donne in gravidanza, per adulti e bambini con patologie croniche, donne e uomini a partire dai 60 anni con o senza patologie e per altre categorie a rischio come ad esempio operatori sanitari e sociosanitari, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, personale degli allevamenti e dei macelli. Per fare il vaccino, rivolgiti al tuo medico o alla tua azienda USL. Per saperne di più vai su vaccino-anti-influenzale.it oppure chiama il numero verde gratuito del Servizio Sanitario Regionale 800 033 033. Non farti trovare impreparato, proteggi te stesso e gli altri. Vaccinati, soprattutto se appartiene a una categoria a rischio. Emilia-Romagna. Il futuro. Lo facciamo insieme. Il futuro. Lo facciamo insieme.